mega aerodactyl ex premium collection check presentazione sbustazione e let's go on è arrivata la seconda edizione speciale 2016 ed è mega aerodactyl ex premium collection l'ho ridetto uguale guarda che forse era più facile dire il nome vero versione mega 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 un'altra premium collection ormai la pokemon ci sta viziando ed è sempre figata c'è la spilla c'è la moneta madonna c'è un sacco di roba allora partiamo con la spilla di aerodactyl grande figata ma che bella la monetazza di aerodactyl la cosa faranno sca la moneta che è anche spilla la spilla moneta si e stavo pensando se sarà la spilleta o la monilla la spilleta la monilla scopriremo solo vivendo partiamo poi con due belle carte promo abbiamo aerodactyl ex la promo black star xy numero 97 e la mega aerodactyl ex xy numero 98 di ciò che adoro quando il problemino di pronuncia di aerodactyl vediamo 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 se c'è anche la carta codice secolo nascosta voilà carta codice dell'edizione speciale sei busta e scassa e busta e scossa un'altra carta era nascosta attenzione un'altra promo promo ho detto vabbè un legame a redactyl spirit link xy 99 wonderful 3 promo 3 promo e una giambica eccola qua tutto rispetto di tutto rispetto la giambica della xy 98 mega aerodactyl ex giambica bella grande veramente bella forte e scassa ci sono e abbiamo anche il des bustibus 6 bustine vediamo le espansioni che ci hanno proposto abbiamo una bella xy 3 xy roar and sky sky schiera numero 6 uncento origins della numero 7 la black tree numero 8 partiamo con furious fist partiamo alla grande dai partiamo subito con una bella carta ex così sbrilla di brutto vai tranquillo scacchi la trovo ti ho detto che era ex ed è full art se smithodex full art volevo esagerare e ho esagerato no maria io esco spettacolo spettacolo io me ne vado ma come fai tutte le volte ho detto che trovo la ex l'ho trovata se smithodex full art non è andata niente male non è niente male niente male niente male poi partiamo passiamo tranquilli con roniskies questa busta è tranquilla scaron preoccupati è tranquilla come magilla gorilla è tranquilla come magilla gorilla c'è un bel raiquaza spirit link la carta trainer's mail è un bel swallow raro la poi uncento origins che ci regala ci regala è un bel metà gross raro la e poi e poi e poi e poi qua si sale si saliamo l'altra metà del gross esatto qua si sale e si sale e si sale si sale e con un bel malamaro perché sei morto è un bel respi queen carta rara una bella special energy flash è il momento dei botti è il momento dei botti partiamo con una carta break sca vuoi una carta break vuoi una carta break e apri un'altra busta perché non c'è piplup reversico e crassiglia rara la ma il finale il botto però abbiamo fatto all'inizio sca dulcis in fundo dulcis in fundo è un bel sandlash reversico e semi pur raro la siamo partiti subito con il botto un bel fisherman anche uncommon del resto l'ho detto che c'era subito la carta ex l'ho chiamata subito non è che la puoi chiamare sempre devo dire complimenti thank you scat thank you scat bene 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 tubers ci siamo visti questa premium collection di magmega riodactyl la pokemon ci sta veramente viziando sono veramente belle una più vera dell'altra faremo anche sul nostro sito una sezione di una sezione dedicata apposta alla premium connection perché ormai sono tantissime ti ho perso sca è tutto e ci vediamo alla prossima and ciao goodbye mega premium grazie a tutti